Tutto buio, devi girare la camera, ruota il telefono Ruota il telefono Così, è molto buio Così Non si vede niente Ecco, aspetta che mi metto a posto Così le vogliamo fare Dai, su Una bella luce Robi di turbanti, amore armes Ovviamente Allora, ben arrivata Ma buonasera, buonasera Sei appena sbarcata in aeroporto Ma ovvio E siamo già in diretta C'è Lenoir, c'è Ken Summer Dietro Saluta, amore C'è Cavalieri con la sua pelle Amore dell'Egittate Delle gittate pazzesche Io sono molto felice Questa sera Di essere venuta Al Red Paolo, non leggerò mai Quello che tu stai scrivendo Di essere venuta qui completamente Ecco Così a sorpresa C'è stato un cambio di programma Comunque dei cambi Di programmi E' comunque una 1200cc Basso profilo Pagata a fior di milioni E sei carica Questa sera Devo andare anche da lui poi Un tour, un circo Certo Poi chissà dove sarai a Capodanno Ma non lo sappiamo ancora Ancora non si può dire Guardate Purtroppo me le mangio Si immagina Can you like My nails The nails of Le Noir Are very famous The most famous nails of Italy Si The most famous face of Gittate A niente carica Comunque si Comunque si E' da fare del rimming Amore Questo lo capisci Si E' da fare Dopo lo facciamo Later rimming Mi piace molto Don't be shy Can we tell Le Noir Allora questa sera Ci vediamo Poi domani ovviamente Faremo la solita diretta Di resoconto Dove parleremo Dei miei zigomi Degli zigomi Di Roberta Carrano Di tante cose Ti è arrivata una denuncia Dalla signora o no? Mamma amore Dei cappelli piccoli Sempre iper bruciati Iper bruciati Comunque non prendete mai Italo Mai Ecco allora diciamo Frecciarossa è top Cosa è successo? Perché sei arrivata Che eri già incazzata Si perché comunque 45 minuti di ritardo E oltretutto E quindi puoi chiedere anche il rimborso Penso Si ma non è tanto per il rimborso O quant'altro Il discorso è che comunque Io poi ho incontrato Un ragazzo gentilissimo Un fan che è venuto Lì ha voluto fare la foto E stavamo parlando Io e lui Nel momento in cui Stavamo parlando Io ho detto Italo mai più Ecco in questo preciso momento È passata Quella La signora Credo addetta A controllare i biglietti E lei Si è intromessa Nel discorso Dicendo Eh pazienza Ma pazienza Che cosa? Cioè già Sei in tolto Perché abbiamo fatto ritardo In più Tu mi vedi che sto parlando Con un mio amico Ti intrometti nel discorso Dicendo pazienza No ero nera Signora mi scusi Ho sentito bene Può ripetere Ah perché poi Non le manda mica dire No e lei fa No pensavo che era diretto A me No allora O diretto O non diretto Io stavo parlando Con un mio amico E lei non si intromette Intromette E comunque Se proprio si doveva intromettere Era solo per fare delle scuse Per scusarsi infatti Quindi ho detto Comunque la sua faccia Non le permette di fare nulla Per chiudere Ho detto Per chiudere in amicizia Perché il tatuaggio Che ha le sopracciglia È degli anni sessanta Che neanche si faceva Il tatuaggio No negli anni stessi Ero nera 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 Però Dai adesso sei di buon umore No ora si Perché hai visto Ken Ah amore si Guarda che bellino Piccolino Il Ken È meraviglioso C'ha una pelle stupenda Ah è tutt'oggi che si dà le cremine Per il tuo arrivo Sì amore È proprio carino È dolce il Ken È sweet È sweet Sì è da leccare completamente She is speaking about you You understand it no? No 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 È meglio che non capisci It's better Stasera un party glaciale Sì amore Completamente Anche se si muore di caldo Ma quando cazzo Finisce sto caldo Basta Io non ne posso più Sono esasperata È vero che tu non ami molto l'estate No io odio completamente l'estate Odio il caldo Voglio il freddo Voglio il gelo Voglio vedere la faccia Della cancellieri Con delle gittate La cavalieri Sì cancellieri Lei la cancellieri Allora Dopo Anna Rita Stasera abbiamo cancellieri Avete capito? Oh ti salutano Vito e Daniele I nostri cubisti di dopo Ciao Quindi stasera sarai circondata da uomini Amore amore Da uomini Ma lo sai che mestiere fa Ken? No I don't know Ken She wanna know Which is your job My job Get on my knee Eh vedi amore È passiva È passiva She wants to know If you prefer being top or bottom More bottom Ecco Già non va bene She wants you as a top Fa niente A rub top Va bene anche così Tanto facciamo le lesbiche He loves you the same She loves you the same Allora Elia ci saluta Ciao amore Tanto noi ci vediamo poi il 21 Esatto E niente Adesso noi stiamo andando un po' A mangiare due totellini Stiamo andando a salutare Piero Nel ristorante più buono di Bologna E godiamo quattro ristoranti Cosa scrive Metti P che parla in inglese Mi sciolgo Beh adoro Ah è tutto amore È tutta una lingua qua Siamo pieni di lingue Possiamo parlare completamente Inglese, francese C'è Danilo che scrive le noir No Danilo è cattivo Non voglio vederlo No Danilo non ti vuole vedere E quindi ci vediamo dopo a Red Come al solito Certo Appuntamento Scegliete la garanzia Assolutamente scegliete la garanzia Non si può dire niente Fino a domani non si può dire niente Fino a domani Io vi aspetto eh amore Mi raccomando E controlla chi non viene Assolutamente Controllerà tutti gli album fotografici E purtroppo Però se no poi le vedete queste no? Esatto State molto attenti eh E le noir controlla tutto Guarda la faccia Ve la cancellieri dietro Ma è meraviglioso Fai vedere la pelle cancellieri Ma è pazzesca Guarda È una grana pazzesca Ma guarda che è vero Io mica lo dico per ridere No no è vero è vero Ha tutto investito sulla pelle Io in silicone Molto bene Sono cliti Cioè guarda la tetta occupa tutto Quasi lo schermo Tutto lo schermo la tetta ma è stata fatta tutta in una botta ci sono stati più interventi 5 interventi solo per il seno compravo un bilocale quindi in centro Bologna lo compravo ve lo dico quanti cavolo di soldi ho speso per dare atto a tutto questo in judgment è continuo non è che ci si ferma però non sempre stanno cercando di boicottarci stanno cercando di boicottarci guardate che bellino che è il mio caro amore bello stasera faranno lo show insieme le chiamo tutte le palle ecco molto bene le palline mi piace tutte queste cose va bene siamo arrivati al ristorante vi salutiamo vi ricordiamo questa sera scegliete sempre la garanzia di Bologna che è il Red io vi aspetto non fate gli schifosi altrimenti la cancellieri poi che è qua dietro la pelle gli si rovina completamente ci vediamo dopo al Red questa sera in una versione inedita Ele Noir non come la vedete di solito la vedete con Miglio che la intervista questa sera invece farò molto circo ve lo dico già preparatevi perché è molto carica e quindi a dopo al Red e la diretta di domattina quella al solito riassuntiva della serata che domani secondo me ci sarà molto di cui parlare a dopo ciao ciao